It's me, Mario! E' di Alex Pierre Si chiama Easy or Hard Level E' ammettato in Super Mario World Lo preferisco tantissimo Super Mario World Anche se effettivamente è che Super Mario 3 ultimamente Sta prendendo punti per me Cioè mi sta piacendo sempre di più Comunque tentatività 4 riusciti 5 Percentuale di vittoria 5,95% Lì come sempre sotto lo screenshot Quindi vediamo un po' cosa ci mandi a fare Alex Pierre D'altro, ora, so che non vi interesserà In ogni caso ho comprato la nuova batteria Quella è espansa per il Wii U In caso che la batteria che avete vi sembri Troppo... che duri troppo poco Diciamo c'è appunto questa nuova batteria espansa Che potrebbe... Uh! Vita! One up! Che potrebbe allungare la... appunto La quantità di ore che dura la batteria Nel caso... ma dove andiamo qua? Perché io c'è scritto di andare avanti Ma io ormai sapete come sono Ormai cerco di morire nei modi più alternativi possibile Perché è giusto così, no? Via ora, vai! Ok, no! Asp... no! Perché? Eh, ok Allora... no! Quanto ho rischiato! No! Dai! Ma no! Maledizione! Allora ricominciamo da capo Ok! Forse è meglio passare di sopra Mi sa Decisamente è meglio di passare di sopra Se faccio veloce dovrei riuscire a prendere la prima one up che scendeva Che ho visto ne scendevano diverse di one up Eh... forse me le sono sognate io Non lo so qualcosa del genere No! Ok! Benissimo! Va bene! Perfetto! Allora prendiamo questo dannatissimo fungo Mo' vieni qui Saltia! Saltiamo! Tale... Ci vediamo quando riesco a atterrare su quella piattaforma È per sbaglio Ok! Allora siamo arrivati fin qui Se non altro quello l'ho presa Quindi qui sotto Non c'è una specie di mattoncino qui? Aspettate che riprovo Sì, ecco, ok No perché mi ero un attimo preoccupato Io volevo infilare in quella porta in qualche modo Perciò Entriamo! Benissimo! No! Cioè abbiamo fatto tre metri da un'ora e mezzo che siamo qui Bene! Ottimo! Perfetto! E vai di qua! Ok! No! Lì non mi freghi Ma spesso salto direttamente Vado qui Forse è anche meglio Ok! Io ho paura No io devo passare Ok! Sono arrivati fin qui Non ho preso quei cosi Quei blocchi Perché ho paura di rimanerci sotto poi Lì non c'entro neanche Se mi pagate oro Forse avrei dovuto fare qualcosa di diverso Per sbaglio Però siamo arrivati lì Sono già soddisfazioni in effetti E non è poco Non è poco Ottimo! Quasi preso In faccia Ok! Qui saltiamo di qua Perfetto! Dai proviamo! Che c'è qui? Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Ma non è che qui c'è qualcosa? Qualche? No! Mi sembra strano che qui non ci sia assolutamente niente Perché io non posso scendere Muoio scendendo Aspetta un po' Alla giù c'è una porta Aspetta un attimo Aspetta un attimo Se io scendo Ok! Non so come ma ce l'ho fatta Ad arrivare Muo vieni! Muo vieni! Ok! Benissimo! Ok! Non so cosa è successo Ma sì Ok! La discoteca è finita Benissimo! Livello completato! Easy or hard level? Benissimo! La stella te la metto Perché effettivamente Pur essendo troll A me è piaciuto il livello È stato carino Io mi sono divertito a farlo Non è per niente frustrante Tra l'altro Quindi Buono così Meglio così E quindi Bravo Alex Pierre Tra l'altro credo fosse il tuo ultimo livello Che ti posso portare Ti porto portare Bene Che ti posso portare sul canale Quindi Mi dispiace però Allora ti ringrazio per questo livello E anche per il precedente Quindi A tra un attimo Con il prossimo livello Grazie Leo Grazie Leo per la stella Sono rimasto Non lo so Un po' stranito Ho tagliato Non so quanto Però va bene così Ah tra un attimo Secondo livello di D E anche il tuo ultimo livello Se non erro E si chiama Troppo difficile Difficile C'è una C in più Ma va bene lo stesso Difficile Ambientato in Super Mario Bros Per il settore di vittoria E 0 Tentativi in 90 E riusciti 0 Punto Perché in questi giorni Siamo proprio in vena Di fare cose Molto Molto simpatiche E carine Uh 13 No 13 novembre Ok Tra l'altro ci si avvicina Il mio compleanno Tra l'altro Ormai ve lo dico E' il 13 dicembre Perciò Insomma ci siamo quasi Questo è stato fatto il 13 di novembre Però un mese prima Ma comunque Siamo lì dai Vicino Ok Uh Peach gatto Carina Ok No 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 Prendilo Prendilo No 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 Maledizione Io odio Ok Ok Bene Vediamo un po' Se ce la facciamo A fare una cosa Fatta decentemente Perché Io lì ho visto Il bastardello Lassù Quello sulla nu No Quello è un bastardello No Vieni qua Secco E la nuvola Ce la prendi No No Posso salire sulla nuvola Questa bastardaggine Acutissima Acutissima Allora Qui dove andiamo Ok Andiamo a vivere Se non altro Per sbaglio Ma andiamo a vivere Qui bisogna stare attenti Perché questo rimbalza Oddio Perché No Ma se io prendo No 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 Di rimbalzo Polizioni Di rimbalzo Ok Allora Stavolta Non è apparsa La La cosa La Come si chiama Il guscio Non c'era Quindi Siamo andati tranquilli Io non lo so perché Ma questo eviterei Di prenderlo Tanto così Per Curiosità Visto che è andata bene Una volta Evitiamo di Farci del male Visto che ci riesce Anche abbastanza bene Tendenzialmente Allora Oh Qui non ci andiamo Quindi Ah No Qui che c'è Di No Fungo Vieni qua Muovieni la salvezza Qui che c'è Fungo Altra salvezza Muovieni Uh Animal Crossing Ok Mi tocca andare qui di sotto A me No Eeeh Che dovrei Ok Quindi Che dovrei fare io esattamente Ah Qui non si poteva No Qui non ci andiamo Ma tra un attimo Quando capisco Se sono morto Oppure no Niente Ok Non rie Ok Sono anche morto Perfetto Non riuscivo ad uscire di qui Non ho ben capito Se è la strada giusta Oppure no Boh Riprovo ad andare da un'altra parte Io Non lo so Boh A tra un po' Ok Ce l'abbiamo fatta Bastava farlo col guscio Non bisogna cadere di sotto Perfetto Ok Importante Capire quello No Mamma mia No Me ne sono reso conto dopo Ah Maledizione Maledizione Era arrivato fin qui Ah Ok Ok Va bene Ok Allora Siamo tornati qui Ma non c'è stavolta Il Il farabutto Di sopra Sulla nuvoletta No Aspetta Forse c'è da entrare In questo tubo Ok Perfetto Benissimo Me l'ha preso male Ve lo giuro Perché io dovrei Ok Non lo so Io sto qui sopra Perché No Maledetto Allora Allora Io ho una paura Tremenda Non so Ho cercato di non scendere Perché pensavo che scendendo poi Non sarei più risalito Quindi ho cercato di andare avanti in quel modo Correndo il più possibile Ma a quanto pare non è andata proprio benissimo Quindi a tra un po' quando tornerò lì Forse Ok Allora Cerchiamo un po' di fare le cose un po' per bene Perché io ho paura che se vado lì sotto Non riesco È quello il problema Capite Perché Pagura che È ok Cerchiamo di fare così No Io Ok Ah no Ok 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 Tranquillo Ale Tranquillo È tutto a posto Non c'è Una mosbite normale No non c'è Inghippo Lagiù sotto Perfetto Mi sento meglio Non so perché Ma mi sento meglio Mi sento anche di non entrare in quella porta Ma semplicemente di andare avanti Fino alla fine con questo Io chiedo scusa Ma Ho l'opportunità di farlo Forse Perché dipende cosa avrà messo qui in fondo E E forse non c'è la fine Attenzione Forse non finisce qui il livello Vediamo un po' Qui c'è roba Che c'è qui? Prima Oh Questa la ho uccido Ah ah Tanta soddisfazione Ora uccide anche questo Attenzione 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 Ah 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 Scusate Quella la lasciamo viva perché ci va così È così Succede ogni tanto Quindi io ho visto lì le fiamme Vieni qua Vieni qua Bellissimo Mi vuoi dire che non l'hai fatto finire qui? Ma hai messo questa cosa in fondo È bellissimo Ora lo devo uccidere No scusa Deve morire Bowser Attenzione Spero di non morirci io in qualche modo Cosa abbastanza probabile tra l'altro Beh no soddisfazione la voglio avere ormai Attenzione Dovrebbe essere a fine vita Credo Presumo E suppongo Sì So che non abbiamo finito il livello L'abbiamo fatto niente Ma intanto è finito L'importante è questo Quindi Ottima pensata questa Pensavo di aver finito il livello Sgamando in questo modo il tutto Invece è stata un'ottima pensata Questa Bravissimo Mi sa che Forse io l'ho presa semplicemente all'incontrario Non so se l'avevi calcolato Che qualcuno potesse Fare Il Diciamo il livello al contrario Ok Vediamo un po' di fare Ah No Io lo sapevo che andava a finire così Ok Qui Io provo a lanciarmi Perché sono al contrario io Ok Allora Da qui Esattamente Uh Benissimo Quindi lui mi lancia No ma lo sapete Forse io ero la parte giusta Cioè io dovevo uscire di là E poi Aspettate un po' Perché qui ci rimanda tutto dalla parte di sotto Quindi mi sa che ho fatto una grandissima cavolata Tipo Qui c'è niente per uscire Ecco lo sapevo io che c'era qualcosa per uscire Benissimo Ok Quindi se noi ora torniamo indietro Che faccia Tipo Qui ci posso andare io Assolutamente no Alle porte Vediamo un po' E ho fatto un po' lo schermo un po' a caso Però è bello anche così Meno uno si rende conto di cosa esattamente va Di come va a morire uno Di come si muore Benissimo Perfetto Riparto Ok A tra un po' Magari parla in ordine meglio le cose Ok Non è andata esattamente benissimo stavolta la situazione Quindi allora Qui Che c'era qua esattamente Perché c'era qualcosa In cui entrare Dove entrare Lì dentro non ci andrò mai Neanche se mi fagano oro Allora proviamo a prendere questa porta Vediamo un po' Dove andiamo a finire Oh Direi che c'è da andare A sinistra Occhio Mmm Facciamo un bel saltino Un altro bel saltino Ok Entriamo dentro a questo tubo Che è il caso Casino però È qui Ok No Bene Si sono suicidati Mi dovrebbe dare un fungo Visto c'era un fungo Prima Non c'è nessun fungo Maledizione Porta di qua Attenzione Attenzione Eh Il niente Di fatto Ok Quindi proviamo a salire noi Oh Niente di fatto Benissimo Quindi la porta qui Dove andiamo? Eh Ok No Aspetta Ale Aspetta Perfetto E quindi nella porta Aspettate No l'ho già fatta tutte Maledizione Quindi torniamo via Perché lì sotto io non ci cado Ma bensì possiamo cadere Di Qua Tubo 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 Quei fiori mi dispiace ma non li prenderò mai perché ho una paura che siano Morti Lo sapevo Non i fiori morti Noi siamo morti Allora Vediamo un po' se volando Abbiamo trovato Il tubo giusto Qualcosa di giusto Attenzione Allora Qui No È quello giusto Ma non posso più No Non mi dire che non hai No dai Ma no Ma dai Ma è bastardaggine questa Oddio Devo riniziare i livelli No Questo non mi è piaciuto Questo finale così Finale in questo modo non mi è piaciuto Ok D'accordo Riniziamo Ora grandi così Mamma mia Ok Ce l'abbiamo fatta Siamo arrivati all'incontrario Perfetto Il livello è finito C'è una quantità di vie inutili Che fa caponare la pelle Veramente Non ne avevo mai viste così tante Di vie fasulle Diciamo Inutili nel senso di fasulle Che non servono a niente Perciò Allora Ti fanno solo impazzire Quindi Di Io Ok Allora Ma sì Alla fine è un livello troll Quindi la stella te la metto Perché alla fine È quello che devono fare i livelli troll Perciò la stella te la lascio È architettata abbastanza bene Anche se avrei preferito La fine fatta in un modo diverso E il tubo giusto E che ci fosse stato Nel tubo giusto Diciamo Il Come si dice I coriandoli Diciamo La festa fosse venuta fuori Nel tubo giusto Non negli altri tubi Che magari sono sbagliati Eccetera Non lo so Una cosa del genere L'avrei preferita Anche per dirmi Stai facendo le cose Nel modo giusto E comunque Vabbè In ogni caso Siamo arrivati Alla fine Di questo video Perciò Iniziamo con i saluti Quindi un saluto A Domiziano G e Andrei Vi saluto Entrambi Grazie di seguirmi Io ringrazio ovviamente Tutti voi Di seguirmi Come sempre Per tutti i commenti Che mi lasciate Siete veramente Fantastici Non ho altre parole Per descrivervi Veramente Seriamente Stiamo crescendo sempre Ogni giorno di più Siamo a 2200 E qualcosa iscritti Quindi grazie di cuore Veramente Ma tantissimo Grazie di cuore Non me lo sarei mai aspettato Quindi Grazie Quindi Se vi va Mi raccomando Iscrivetevi I miei canali Facebook e Twitter Trovate i link In descrizione Se vi va Sempre Seguitemi sul Miiverse E aggiungetemi a Steam Se avete un PC Con Steam Ovviamente Trovate i link Del Miiverse Anzi L'ID Del Miiverse E il mio ID di Steam In descrizione Di questo E di tutti gli altri Video del canale Un saluto ancora Da Axios 00 E alla prossima Ciao 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 Grazie.